La matrina di San Pietro Vuoi essere la matrina di San Pietro? Iscriviti al contest e fatti votare. Credito insufficiente. Operazione non disponibile. Ritirare la carta. E Sam, me lo fai vedere il profilo di Carlito. 90.000 follower. Io lo dico per te, trovati un lavoro vero, se non rimane con una mano annanzanata da rete. Marvin sta con la tipa. La coppia social vince sempre. Qua il passato è sempre presente. Ma ti ho chiesto l'amicizia, non l'hai vista? Se non posti, non esisti. Capi se ti posta, fammi capi. Apri il profilo che ti taggo. Queste cose sacci. Sono con un zoom di Carlito. Il Carlito in prima pagina. Ma guardate che bella coppia tipa. Guarda qua, milioni di storie, se comunque nessuno mai ti vede offline. Vedano quello che devono vedere. Come a Cosenza. Questo è sotra, non è bugia. Il nostro influencer. La nostra star. La star del reality. Il Carlito. Buonasera. Ciao Danilo. Buonasera a tutti. Amici, siamo finalmente a Formentera. 2.500 euro per un fine settimana. Ma ti rendi conto? Gemma fa qualcosa questa perdita di like. Oddio che sono. Luisa Rosetti. Vuoi sposare? Sono così poca! E diventiamo proietari! Mamma mia. Tutti i social e paese. I vannolini come li paghi? Con i like. Ti fagli vedere la tua challenge. Il video. Il video va nel loop. Bai! 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 Welastica! Nelantica! Nelantica! Sono il sono stele!